Cosa è emerso dal questionario sulla criminalità dato da Confcommercio? I risultati maggiormente significativi sono stati quelli che ci riferiscono che da parte degli imprenditori non c'è sicurezza del territorio che vivono. Il 65% degli imprenditori ha sottolineato come negli ultimi anni ci sia stato un incremento dei fenomeni criminosi e il 50% non si sente sicuro sul territorio che vive. Solo il 30% degli intervistati hanno un videosorveglianza o antifurto e solo il 20% hanno delle assicurazioni. Hanno paura maggiormente dei furti e delle rapine e ritengono che le giornate maggiormente a rischio siano il sabato e la domenica pur mantenendo alta l'attenzione anche sugli altri giorni della settimana. Invece, come dire, simpatico è venuto fuori anche un identikit del taccheggiatore dove si attribuisce un'età tra i 35 e i 54 anni per il 56% di nazionalità italiana donna e madre di famiglia.